La prima edizione di Bora è del 1998 E per capire cosa significò quel libro Bisogna ricordare che rottura rappresentò Va ricordato che allora non era solo un grande silenzio attorno all'Esodo Ma anche una profonda divisione fra gli stessi istriani Cioè fra gli andati, gli istriani, i fiumani, i dalmati dell'Esodo e i rimasti Una divisione quasi incomprensibile dall'esterno Ma pochi mesi del primo Questa frattura aveva colpito anche il Presidente della Repubblica Scalfaro Che era andato in Istria E aveva parlato con i rimasti Ma prima di partire aveva parlato con gli andati Cioè quelli venuti in Italia Che gli avevano detto I veri italiani siamo noi Mentre naturalmente i rimasti gli raccontano Quanto sia stato duro mantenere la propria identità E Scalfaro ne è così colpito Che ne parla in un'occasione Che sarebbe la più lontana da questo Che è gli auguri di San Silvestro agli italiani Ed è la prima, credo, anche l'ultima volta Che si parla di lista in quella sede Che dovrebbe essere E Scalfaro dice Conclude dicendo Lasciatemi fare un passo in avanti Due sofferenze Un patrimonio solo Ecco Bora che esce qualche mese dopo Ci aiuta e ci ha aiutati A fare quel passo in avanti Due sofferenze Un patrimonio solo E quello stesso spirito Era presente anche nei documentari televisivi Che Anna Maria aveva fatto in precedenza Che abbiamo mostrato anche qui E che sono stati mostrati anche agli studenti Quando Zincaretti era presidente della provincia Se non ricordo male Istria 43-93 50 anni di solitudine E Istria diritto alla memoria E dopo Bora sono avuti poi altri libri istriani Nata in Istria E l'Anima al Trove Entrambi Rizzoli E nata in Istria Inizia quasi come un appello Per dire così Insomma O con una premessa doverosa Non riducete l'Istria Alle sue tragedie Novecentesche L'Istria non è solo foibe L'Istria è una terra bellissima E che ha una storia bellissima Lunghissima Presente nei suoi monumenti Da un colosseo che si specchia nel mare L'Arena di Pola Le parole naturalmente sono di Anna Maria Ai palazzetti veneziani e così via I libri sull'Istria sono inevitabilmente Evitabilmente anche libri di storia E di storia novecentesca E naturalmente Bora è uno straordinario libro di storia Ho avuto l'onore Che Anna Maria mi ha chiesto di introdurre Insomma questa presentazione alla ristampa E ho detto quello che i miei amici sanno Che questo è il libro di cui ho imparato di più Bora Per questo doppio sguardo E anche il libro di Silvia Dai Pra Senza salutare nessuno Ritorno in Istria È un libro di storia Silvia è nata in Toscana Trent'anni dopo l'Esodo E a un certo punto decide Di immergersi in una storia che non conosce Una storia in cui è morto il bisnondo Nella foiba di Vines Ma di cui non le ha mai parlato Neppure la nonna Una nonna strana Tutti dicono che ha un cattivo carattere Ma poi che abbiamo le radici La natura di quel cattivo carattere È la prima volta che Silvia va in Istria col padre Passando dalla casa della nonna Dormendo in Veneto E lei alla fine Quella mattina non si fa trovare Le lascia solo un biglietto Non salutatemi nessuno Buon viaggio Di questa storia non ha parlato Silvia Neanche il padre Comunista convinto Che però ne ha in qualche modo segnato indirettamente E di questa storia non ha sentito parlare neppure a scuola Nella Toscana Rossa in cui è cresciuta E neanche fra i giovani comunisti In cui militava Se non nello scontro con i fascisti Loro dicevano foibe Loro e noi Insomma a quel tempo dicevamo altro A scuola a notte Studiavamo il carso Solo come sfondo alla prima guerra mondiale Come panorama che si apre alle spalle Delle poesie di Ungaretti O come sede Della enesima mattata di D'Annunzi A un certo punto Silvia decide Di andare alla ricerca del bisnonno E della sua storia Nella istria dei nostri tempi E in questa ricerca Che incontra silenzi, reticenze, ostilità E al tempo stesso incontra però Anche altre storie Che rimandano ancora all'indietro Mi fermo qui Per non invadere il percorso Che abbiamo scelto Già l'ho fatto un po' troppo Aggiungendo però Che Silvia insegna a Roma A una scuola della perifera romana Ha dedicato al libro reportage Quelli che però è lo stesso Pubblicato dalla terza nel 2011 Mentre da gremesi Ha pubblicato il romanzo La bambina felice E a suo attivo Ha anche una test dottorato Su Elsa Morante Quindi come ho detto Io chiederei in prima battuta A Silvia Dai Pra Di parlare di Bora Di Anna Maria Mori Negli da Milani E poi Anna Maria Di parlare Di senza salutare nessuno Di Silvia Dai Pra Intanto grazie Grazie anche a voi Che siete qui Io ho portato direttamente La mia copia originaria Che è proprio quella del 1998 Trovata a casa di mia nonna E una delle pochissime cose Che ho trovato in casa di mia nonna Perché era sparito Praticamente tutto Questo è un libro importante Importante perché è un libro ponte Tra due realtà che molto a lungo Non si sono capite E non si sono amate Cioè quelle degli andati E quelle dei rimasti Io stessa E sta parlando una persona Che ha cominciato a conoscere L'Istria E tutto ciò che era Erano i territori Oltre a quello che è oggi Il nostro confine est Recentemente Perché non avendomelo mai Raccontato nessuno a casa E essendo cresciuta In luoghi molto lontani Io ci sono arrivata Quasi da novizia La polemica tra Andati e rimasti È proprio una cosa Di cui io sentivo In un certo senso Diciamo così E che sentivo E cheggiare Anche se Ovviamente Come racconto nel mio libro Mia nonna è morta Senza avermi mai raccontato Nulla delle sue origini O dell'Istria C'era questa situazione Molto particolare In cui la famiglia Di mia nonna Che venne via E non parlò più dell'Istria Portò con sé L'Angelina Che era una ragazza Che lavorava a casa loro Che poi è diventata Un po' inclusa Una specie di sorella Solo che a lei Rimaneva la sorella di sangue Al di là del confine E quindi faceva Dei movimenti Aveva a volte Delle visite Che a mia nonna Provocavano Degli accessi di furore Perché arrivavano Gli slavi Li chiamava lei E quindi Questa fortissima polemica Io l'ho sempre sentita Un libro come questo È un libro Di riconoscimento Di un dolore comune Le parole di Anna Maria Morici Racconta l'esodo E lo racconta molto bene Il dire Il cercare Anche quando Quando dice tipo Quando gli chiedevano Dove sei nata Firenze No? Cercare un po' Di tirarsi fuori Da un'etichetta Che le persone Ti mettevano Immediatamente No? Quella del Profugo Uguale O fascista Secondo l'etichettatura Dei fascisti In fuga Dalla vendetta popolare Che fu Una fake news Molto Feroce Diciamo così Oppure Comunque Dello straniero Quasi tutte le persone Raccontano Anche del passaggio In campi profughi In cui vivevano Sostanzialmente Da stranieri In delle città Era un'Italia Ricordiamoci Ancora dialettale Per cui Ho conosciuto Le persone Che mi hanno detto Io da fiume Sono stato mandato A un campo profughi Nella provincia Nella campagna Tra Bari e Matera L'italiano standard Si comincia a parlare Più avanti Non c'era nemmeno Quasi forse Una possibilità Reale Di comunicare All'epoca E quello che mi ha colpito Però è anche Il fatto Che in questo libro Che è un libro Scritto a quattro mani Ora poi Non so come avete fatto Tecnicamente Con una serie di lettere Perché sono Siamo anche in epoca Predigi C'era lì Ah Ecco fa Vedi Bellissimo Questa cosa Quello che mi ha colpito È che anche La voce della Milani È fortemente Intrisa Di dolore Quindi che Il dolore Non appartiene Solo a chi ha dovuto Lasciare quelle terre Ma anche a chi è rimasto E che si è trovato Immerso In quello che La Milani Chiama Un mondo di seconda mano Congelato e finito Perché? Perché Tutto quello che avevano conosciuto Sostanzialmente Pola ad esempio Viene trasportata via mare Viene La città così come era stata conosciuta Fino a quel momento Sparisce E ne nasce un'altra E L'etichettatura L'essere Etichettato Al di là del confine Come Italo-fascista Sembrano Due dolori Molto simili Perché C'è lo sradicamento Dell'esodo Però c'è anche lo sradicamento Di una sorta di esodo Di esilio interno Raccontato dagli italiani Rimasti Nistra E Quindi colpisce Che queste due esperienze Non si siano parlate Tanto a lungo Non mi sembra un caso Che questo libro Sia stato scritto Proprio Alla fine Alla fine O comunque nel periodo Quando era stata appena finita Se non sbaglio E quando era appena finita La guerra della Jugoslavia Negli anni 90 Perché Perché comunque Quelle erano zone Multietniche In cui Praticamente Chiunque conosca quelle zone Riconosce di avere Delle radici Non Assimilabili Al cento per cento E Era Cioè Io l'ho proprio letto Anche come un Un tentativo di costruire un ponte Sapendo E Conoscendo Quanto Possa essere Drammatico E pericoloso Seminare l'odio In territori interetnici Perché poi È quello che è successo Anche negli anni 90 Il libro ha Delle parti Molto belle A me soprattutto Sono piaciute molto Anche Questo tentativo Che fa spesso Anna Maria Che infatti ha fatto Anche in Natanissia Di parlare Dell'Istia Al di là Di quello Che è unicamente Le foibe Oppo Dell'esodio No L'Istia È una zona Che in un certo senso Ti conquista Per tutta una serie di motivi Che sono Questi continui lampi marini E questo rapporto Della popolazione Col mare Che è incredibile E mi è piaciuta molto Questa cosa E volevo leggere Un pezzettino Che ci sono un sacco Di brani Che sono quelli che Un sacco di brani Che mi sono piaciuti Se mi permetti Io faccio però All'interno Dei salti interni Perché se no Dovrei leggere 52 pagine Siamo tornati anche voi La prima volta È stata all'inizio Degli anni 60 Una gita povera Come erano diventati I poveri miei Con la Fiat Giardinetta Color verde oliva Carica delle tende E dei paletti Di ferro del campeggio Con me c'era Un ragazzone biondo Intelligente e sospettoso Al quale Di lì a qualche anno Avrei detto sì Noi Gli streani Lui Italiano Nato a Roma Da madre romagnola Senza che nessuno Avesse mai messo in discussione La sua identità La città E la casa In cui aveva vissuto E viveva Erano da sempre le stesse Vedrai Il nostro mare È il più bello del mondo I nostri scogli Sono bianchi E lisci come la seta Da noi Si mangiano frutti di mare Che voi non conoscete Si chiamano datteri No Non sono quelli dolci Che ci arrivano Sotto Natale Nelle scatolette di legno Lungovali Dal nord Africa Finalmente Avevamo qualcosa Di più e di meglio Degli italiani Tra virgolette Che rispetto a noi Avevano tutto Più di noi E poi La rio in Istria Il mare è caldo E calmo Per la prima e unica volta Della vita Invece della doccia Mi butto in mare Così come sono Appena uscita Dal sonno della tenda Il mare mi accoglie Come un lenzuolo tiepido Il ragazzo romano Il sospettoso Che abbiamo portato con noi In quello che nel nostro stomaco Forse più che nella testa È una specie di pellegrinaggio Ai luoghi sacri Più che entusiasta Come noi lo vorremmo È perplesso Questo mare è fin troppo bello Troppo calmo Troppo caldo Si difende da un entusiasmo Da un'appartenenza Che in qualche modo Li vengono involontariamente imposte Insomma Un mare così Non è mare Ecco Basta poco Per restituirci Tutti noi tre E tutti gli istriani in generale Alla nostra solitudine Al sentimento doloroso Di un'identità Che non riusciamo a comunicare E a condividere Ah scusami Scusami No non puoi Anche perché devi registrare Ecco Allora intanto grazie Grazie di averci ospitato qui Con la nostra storia I nostri libri Grazie a Guido A Guido devo tantissimo Devo E tutti noi dobbiamo molto Perché è stato uno dei primi Nel dolore e l'esilio A riconoscere da storico La nostra storia E il nostro patire Grazie per la sua bellissima introduzione Alla riedizione di Bora E un grazie grande Anche a Silvia Dai Pra E' bello Rileggere la propria storia In una storia raccontata Da una generazione successiva Anche due Potrei dire E io comincio col dire Del libro di Silvia Cosa che purtroppo non si fa Quando il tema Sopraffa Il libro stesso Il tema diventa il libro Il libro è bello Ecco Questa era una cosa Che volevo dire Il libro è bello Perché è schietto E diretto E sincero E coraggioso E scritto bene Quindi E questo è già E questo aiuta Una storia A essere comunicata Agli altri Silvia mi chiedeva Come è nato Il libro Tra me e Nelida Per un momento divago Sul mio Poi torno sul tuo Quando io ho fatto I documentari televisivi Ho cercato A Pola Nelida Milani Che non conoscevo Perché avevo letto Questo suo Bellissimo Piccolo libro Una valigia di cartone E dove avevo scoperto Con grandissima sorpresa Perché non l'avevo mai pensato Che l'esilio era anche Di quelli che erano rimasti lì L'ho cercata E l'ho intervistata Sulle scale dell'università di Pola Dove lei stava salendo Per dare una lezione E le ho chiesto Ma lei oggi Si sente piuttosto Jugoslava Croata Istriana Italiana Lei si è girata Sulle scale E mi ha risposto Con un sorriso Italiana E per me è stata Un'ulteriore sorpresa E da lì ho cominciato A corteggiarla Sono tornata a Pola Le ho portato Una penna in regalo Per invogliarla A scrivere Non voleva Perché la resistenza Di quelli rimasti Era anche più forte Degli andati C'era una diffidenza Di fondo Finché lei mi ha detto Comincia ti E mi te vengono Drio E così è andata E allora io ho cominciato E abbiamo incominciato A scambiarci Dei lunghissimi Fax Notturni Perché costava meno E per lei Soprattutto Poverina Era un impegno E quindi lei Mi mandava Delle Sleppe Si direbbe qui Di 20 30 pagine E io poi Ho fatto Un pazientissimo Lavoro Di ritaglio E cucito Di Intersecare I miei ricordi Insieme ai suoi Tant'è vero Che poi Quando si è trattato Di Della copertina Del libro C'era un ordine Alfabetico Da rispettare Doveva essere Nerida Milani E Anna Maria Mori E lei invece Mi ha scritto Dicendo Assolutamente No Perché il libro L'hai voluto tu L'hai cucito tu L'hai ritagliato tu Quindi devi venire Prima tu E così è andata Che c'è il mio nome Prima del suo C'è un Tutto un sottinteso Di questo Lavorio E questo è Per rispondere A un tuo interrogativo Dopodiché Il libro di Silvia Intanto Bellissimo Questo cognome Che è Metà estriano E metà aristocratico E mi piace Questo cognome Bello E importante E questo libro Di Silvia Io l'ho letto Due volte Una prima volta L'anno scorso Quando me l'ha mandato E una seconda volta Adesso Per parlarne La prima volta L'ho letto Non pensando Di parlarne L'ho letto Per me È stata una lettura Privata Ed è stata una lettura A specchio Nel senso che In qualche modo Cercavo Dentro al suo libro Qualcosa che mi riportasse Le mie Esperienze La mia storia Il mio sentire Nei confronti Di questa storia Per cui Mi sono concentrata Soprattutto Su una parte Che ho raccontato Parzialmente Innata in Istria Più che in Bora E cioè Questo sentirsi Estranea Nella terra In cui sei nata Questo Trovarti di fronte A reticenze Bugie Falsi sorrisi Svicolamenti Difficilmente Di fronte A un A un sentirsi Davvero a casa Io non posso più Tornare a casa Ecco Questo Non ce l'ho Una casa Non ce l'ho più Perché Quella terra lì Non è più la mia E Le persone Dopo anni Di Un regime Che ha tonato Come racconta Ampiamente Silvia Contro gli italiani Identificati Con i fascisti Ma soprattutto Contro gli italiani Tu senti Una diffidenza Di fondo Una Non C'è come una Paura Di un nemico Invisibile Che continua A circolare In Istria E Parte di questo Nemico invisibile Continua a essere Tu Almeno nel mio Sentire E quindi Questa parte Qui del libro Di Silvia In qualche modo Mi ha confortato Perché ho detto Allora Non sono solo io A sentire Questo disagio Profondo Tornando lì Adesso L'ho riletto E ho scoperto Che è Un patrimonio Di Informazioni Di Notazioni Di studio Di Tantissime cose Che Alcune delle quali Io stessa Non sapevo E E Quindi È un Ripercorrere La storia E la geografia Le nostre storie Si svolgono In un territorio Peraltro piccolo Ma in due luoghi Differenti Io A Pola E lei Vicino Ad Albona C'è tutta La vicenda Delle Delle miniere Dell'Arsa Che io stessa Ho visto Visitato Con la grande Scritta Tito Ancora presente Sopra Sopra La collina Io ho preso Tantissimi appunti Poi dopo Sono andata A ruota libera Vediamo se Rileggendoli Mi è sfuggito Qualcosa Che volevo Ancora dire E dicevo appunto Sei a 70 anni Di distanza Succede Che sei E resti Un esule Uno Che non appartiene Sei un esule Lì In Istria E resti un esule Qui in Italia Dove a 70 anni Di distanza Proprio Dalla stessa parte Alla quale hai deciso Di appartenere Quella che voglio definire Progressista Senza collocazioni Ulteriori Alla verità Del dolore Della tua storia Si continua Ad opporre La miopia Incattivita E testarda Dell'ideologia Un'ideologia Che ti respinge Ti rifiuta Non vuol vedere Sapere Si confronta solo Con le sue certezze E a cui si contrappone L'altra ideologia Quindi noi siamo vittime E questo anche Silvia Di due ideologie In contrapposte Che schiacciano Le nostre storie Cercando Ognuna Le deve distorcere A sua immagine E somiglianza E noi vorremmo solo essere La nostra storia Così Così come è stata E com'è Tutto qui Credo di capire Che anche Silvia Come me Tutte e due Nello scrivere I nostri due libri Abbiamo anche voluto Pagare un debito Lei verso la nonna Iole Io verso mia madre E mio padre E così Facendo abbiamo finito Forse senza neanche Saperlo fino in fondo Col testimoniare Di una storia Che non era solo La nostra Ma era la storia Di un popolo E come ha detto ieri Il presidente Mattarella Che Dio sa Quanto dobbiamo ringraziare È una storia Che fa parte A pieno titolo Della storia Del nostro paese E dell'Europa Quindi non siamo Solo Come è stato detto Per un lunghissimo tempo La storia Di una piccola periferia Più o meno insignificante Noi facciamo parte Della storia Dell'intero paese Italia E siamo Quel pezzetto Di Italia Che non è più Italia Che ha pagato Il prezzo Di una guerra Sbagliata Di una sconfitta Conseguente A una guerra Sbagliata E che oggi Siano Quegli stessi Che hanno voluto La guerra Che rivendicano Di essere dalla nostra parte E di difenderci È La pura follia Perché appunto La guerra L'hanno voluta Proprio quella parte lì Quella parte lì Ha prodotto la sconfitta E noi siamo La testimonianza Della sconfitta Noi siamo L'unico pezzo D'Italia Che ha pagato La sconfitta Punto E a capo Ecco Queste erano Le prime cose Che volevo dire Su questo Bel libro Che io ho letto Due volte E tutte e due volte Con grandissimo piacere Un libro che Si fa leggere Vuoi andare avanti A vedere come va avanti E che invito tutti A leggere E ringrazio Silvia D'averlo scritto Prima di ridare la parola Ad Anna Maria Insomma credo che adesso Appunto sia utile E chiedere a entrambe Le difficoltà Le diverse difficoltà Che hanno incontrato Voglio aggiungere Solo una cosa Proprio anche riferimento E un accenno Che resterà Nell'aria Insomma La polemica Eccetera Che Obora Ci dà la dimensione Chiara E fondamentale Per rispondere Per uscire Insomma Da una discussione Che diventa incomprensibile Ce lo dà Con la parola Di Anna Maria Ce le dà Con la parola Di Nelida La discussione Che certe volte Risulta incomprensibile Oltre che altre volte Sgradevole Quella sui numeri Quanti sono I morti Nelle foibe Chiede Anna Maria Al padre Il numero esatto Non lo sapremo mai Le risponde Ma in un altro passaggio Del libro Le dà E ci dà La risposta vera Ci restituisce Il senso Di una totalità Ogni luogo Ogni casa Aveva la sua vittima Ognuno ha sentito Una notte O l'altra I colpi Di quelli Che bussavano alle porte Per portar via qualcuno O i pianti delle donne Oltre alle persone Prelevate e uccise Sono quelle prelevate E poi liberate Dopo giorni Di incubo E l'incubo è stato De loro famiglie De loro amici Di quelli della casa vicina E così via Ed è Delida Ci dà invece La totalità Dell'esdo Un pezzo Insomma Del libro Che Ci fa immediatamente Pensare Alla Spawn River Di Edgar Limaster Partirono Ne leggo solo un pezzetto Perché è una pagina Ma Vi dà l'idea Insomma Partirono le famiglie bene Molti professionisti Il farmacista L'ufficiale che ha sposato La secoslovacca Il dentista che ha sposato L'ungherese Il cantante Che ha sposato La slovena Il professore d'inglese Che ha sposato L'italiana La vedova di un ebreo Partì il mondo Dei mille bestieri L'operaio e l'artigiano Il contegno di un urbato In cerca di fortuna E il manovale I fonditori Della Sergio Olivia Fragnami I calzolai Eccetera Eccetera I pescatori Con odori saldei Salsedine Insomma Partì una società intera In tutte le sue parti E in tutti i suoi nervi Ecco Questo Ci dà Il senso Supera Oggi questo Dobbiamo spiegare ai ragazzi Per cui Cinque mila Ottomila Settemila Non è che Se tu lo dici Fa grandi Far capire Questa totalità Della paura E questa totalità Dell'esodo È la vera La vera risposta Ecco Sul libro di Silvia Ringrazio intanto Annamaria Perché Mi ha tirato sul morale Perché anch'io L'ho letto due volte E la seconda volta Ho capito più di prima Diciamo E quindi Premetto una cosa Premetto però Un accenno Che però volevo fare Anch'io parlando Della scrittura Perché prima Il pezzetto Che ho citato Vi dà il senso Anche dell'ironia Di un'ironia Che anche In un libro Come questo Integralmente In questa dimensione Silvia mette E vi leggo Un pezzetto Del suo primo La sua prima andata Era ragazzina Con la sorella Il padre In Jugoslavia La differenza Fra la costa Turistizzata E l'interno Che odorava Di passato Di povertà Di vecchiaia E la costa Turistizzata Descrive Le spiagge I gelati enormi Che non sapevano di niente E poi che quando Mia sorella passava Gli uomini si voltavano E facevano Fiù fiù con le labbra Il comunismo Non aveva reso gli uomini Meno imbecilli Questo è il tono Questo è il tono Di scrittura Di Silvia Di Silvia Dai Pra E naturalmente Poi Nel suo secondo Nel suo secondo La madre Poi le dice Che vorrei Che vorrei ritrovare L'Italia di vent'anni fa Questo è poi Sostanzitamente Il secondo La seconda tornata Insomma L'andata in Istia Alla ricerca Del bisnonno Insomma E ci dà Appunto I silenzi Le rimozioni Il senso di fastidio E alcune costanti Quando gli anziani Le parlano di persone Uccise dai Nazifascisti Lei dice Dai tedeschi Ma subito Le aggiungono E dagli italiani E quando chiede invece Perché sono morte Persone uccise Dai partigiani Di tito Le risposte Sono vagamente evasive La guerra è brutta Sono successe cose brutte Da tutte e due le parti E così via A Vines Nessuno sa Dove è la foiba di Vines E per trovare La foiba di Vines A Vines Si mette parecchio Deve andare in altri posti E così via E poi c'è un'altra cosa C'è un altro punto Che è stato richiamato Nell'intervento Credo Di Anna Maria È stato accennato Una cosa Il ritorno Quando torna Dal cugino di sua nonna Con Indra Piazza E Un cugino Che inizialmente È imbarazzato Perché pensa Alla fine lo capisce Perché è imbarazzato Pensa che sia venuta Per riprendere La tomba di famiglia Di cui loro Si erano appropriati E questo mi ha fatto Venire in mente Un terribile Bellissimo Film ungherese 1945 Che vedo Conosciuto Diciamo In cui c'erano due ebrei Un anziano Un bambino Giovane Più piccolo Che tornano Nel posto Da cui sono partiti E il paese si mobilita E sta preparando Insomma Di passare a via di fatto Osoziatamente Perché pensano Che siano venuti A denunciare Quelli che avevano portato via Da casa Erano venuti Semplicemente A seppellire Quel poco Che era rimasto Della loro famiglia È un film Diciamo Bellissimo Naturalmente Come ho detto Queste sono storie Diffici da raccontare E in modo diverso In tempi diversi Sono state cose difficili Inizierei di nuovo Con Anna Maria Vorrei leggere un passaggio Di Silvia Che trovavo particolarmente Due passaggi Uno Dice a Pisino Nel centro dell'Istria Quello che il regime comunista Aveva scelto Di trasformare Nel capoluogo dell'Istria Al posto di Pola Perché Pola era la città Borghese Diciamo Pisino La città Di campagna E siccome Dal punto di vista Leninista È la città Che deve seguire La campagna Pisino diventa Improvvisamente La capitale Dell'Istria E allora A Pisino Nel centro Dell'Istria Il comitato Di liberazione Annunciava la liberazione Non dai fascisti E neanche dai capitalisti Ma Virgolette Dal gioco Degli oppressori Italiani Quindi Da qui parte Tutto un discorso Su quella Che poi è stata Sostanzialmente Una pulizia etnica E l'altro passaggio Che mi ha colpito Il nazismo Faceva della morte Una mostra permanente Di corpi maciullati Qualcosa a metà Tra il terrorismo E una vaga Sottile perversione estetica Il nazismo Trucidava Il comunismo Faceva sparire E c'era maggiore pietà Nel sottrare i morti Alla vista dei viventi Oppure era una forma Di manipolazione Psicologica Più sottile Più perversa Non era meglio Poter continuare Ad immaginare Il proprio caro in vita Piuttosto che vedere I suoi resti Contare sulla pelle Le torture subite Prima di dare L'ultimo respiro Ma Alla fine Era pietà Obiltà Forse Il comunismo Nascondeva I suoi morti Perché non erano Previsti Alla radice Come nel nazifascismo Perché il comunismo Voleva essere Ideologia D'amore E non di morte Perché altrimenti Come si fa a dire Che virgolette Il primo socialista Fu Gesù Chiuse virgolette Perché il comunismo Voleva portare la pace Ma che pace Può esserci Quando dalla terra Riemergono Corpi Smembrati Di ostetriche E di donne incinte Ecco Erano due passaggi Che mi avevano Particolarmente colpito E che volevo leggere Quindi L'odio Contro gli italiani Prima di tutto Contro gli italiani A me è capitato Molte volte Di tornare in Istria E di interrogare Sorridendo Dicendo Ma come mai I tedeschi Che pure Facevano parte Del gruppo nazifascista Vi sono così simpatici E noi italiani No E il sorriso Anche di Nelida Era Ma come A te sono antipatici I tedeschi Ecco Questa era la risposta Molto sorpresa Che mi fossero Antipatici I tedeschi Sì Sì Silvia Silvia Quando era in Istria Dice Noi mangiavamo C'è l'altro Sì E poi C'è tra vicino C'è dei tedeschi Che chiedevano Questa tutta È vista Sono gli udici A credere Che gli stessi Rimostri Sì È vero È vero È vero È vero Quindi Tu mi chiedevi Guido La difficoltà Di questo libro Ma io ricordo Che quando avevo Scritto Insieme a Nelida Le prime 40 50 pagine Le ho date Alla direttrice Editoriale Allora della Frassinelli La quale le ha lette E mi ha detto Dio mio È una storia Tremenda Chi la leggerà Però proviamo Devo dire Mi ha dato fiducia E dopodiché È stato Difficilissimo Promuoverlo Perché Ancora Nessuno Sapeva Questa nostra storia Vagamente Qualcosa Sulle foibe Ma sull'esodo Proprio Nulla Per cui Io cominciavo Le mie presentazioni In giro Per l'Italia Dicendo Tutti noi Abbiamo un esilio Dalla nostra Giovinezza Da un amore Da un ricordo Per cercare di introdurre Dalla larghissima Alla larghissima Per cercare di introdurre Il tema Perché tutti Mi guardavano Con una Forte diffidenza Con una forte Presa di distanza E poi Insomma Piano piano Ce l'abbiamo fatta Io prima L'avevo quasi Per superata La diffidenza Tra i rimasti E gli andati No Non è No ecco L'altra cosa Divertentissima È che se io Torno in Istria I rimasti Hanno letto Solo Negli da Milani E in Italia Hanno letto Gli esuli Hanno letto Solo la mia parte Quindi io Che ho tentato Di fare un ponte Tra queste due cose Ognuno è rimasto Esattamente Dalla sua parte Quindi gli esuli Hanno letto me I rimasti Hanno letto Nelida Di me Non sanno nulla Scusami 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 Allora Le difficoltà Quando scrivevo il libro Sono La prima difficoltà La principale È stata che Era passato Troppo tempo Questo ha fatto sì Che da un lato Io fossi molto Diciamo così Serena Nell'affrontare Queste tematiche No Non mi posso Arrabbiare Per cose Successe 70-80 anni fa E Dall'altra parte Quasi tutte le persone Che potevano Che potevano Parlarmi Non ci sono più Mia nonna è morta Nel 2002 Senza mai avermi Minimamente Nemmeno accennato Alla storia Che si portava dietro Quindi Era proprio La prima difficoltà Di distanza temporale Poi L'andare di là Io sono andata Proprio a cercare Il luogo A cercare le case C'è ovviamente Una paranoia Che c'è di là Che è quella I beni Cioè Il non farmi entrare Cioè Non a caso Mi ha fatto entrare La signora Dell'ex mulino Perché quella È l'ex mulino E quindi Che gliene importa Cioè Lei è in affitto Una signora De 90 anni Mi ha accolto E la prima cosa Che mi ha detto Io non me lo dimenticherò mai Quando mi ha visto Io mi sono presentata E lei mi ha detto Sono 70 anni Che aspetto Che qualcuno di voi Venga a vedere Che ne è stato Delle vostre cose Come se nella sua testa Fossero ancora le nostre cose Ok Io non sapevo nemmeno Di cosa stessimo parlando Quindi c'è proprio Una sorta di Di paura Andare a affrontare il tema E poi ovviamente C'è Ci sono i risultati Di decenni e decenni In cui Dell'argomento Non si parlava Io L'estate scorso Ho presentato il libro A Dalbona A Santa Domenica Dalbona È stato anche molto commovente Perché Essendo estate Questa questione Di cui Stavamo parlando proprio Prima Che questo è un po' Ponte Tra Gli andati e rimasti In realtà Poi d'estate Ora vedi Che si sono creati Dei ponti Cioè Andando là Trovavo tantissime persone Le cui famiglie Erano state In un certo senso Spezzate in due Dall'esodo Cioè alcuni erano Rimasti là Alcuni sono venuti qua E adesso hanno un po' L'abitudine di trovarsi Ogni estate E quindi È stato molto commovente Più anziane Erano le persone Però Più avevano paura Anche solo a dire Una sillaba Sul Sul tema Perché Perché non se ne parlava Perché loro hanno avuto Comunque Un regime E questa non è una narrazione Che poteva essere Infilata all'interno Della retorica Del regime Quindi Seconda difficoltà Quella proprio temporale La difficoltà oggettiva È di arrivare Sulla foiba di Vienez Io prima di andare là Ero convinta Che avrei trovato Un cartello Tutti mi hanno Disfaccia Quando gli ho detto Questa cosa Ma io ero sinceramente Convinta di trovare Un cartello La foiba di Vienez Siamo dovuti Andare con Un piccolo macete E le cesoie In mezzo alla foresta Perché è uno luogo È uno luogo Che Dove mi hanno portato Appunto Il Diciamo così Il Più importante Della comunità L'uomo Insomma un po' simbolo Della comunità Degli italiani Di Albona Però è stato molto difficile Raggiungerla Altra cosa La difficoltà A ricostruire Esattamente la storia Mi sono Concentrata Nel libro Su Santa Domenica D'Albona Quindi stiamo parlando Di un paese piccolissimo Nella costa est Dell'Istria Mi sono concentrata Su quel posto E mi sono In un certo senso Fatta ispirare Dal cimitero Quando sono andata lì La prima volta E Quasi nessuno Mi sapeva dire nulla Io ho passato Un sacco di tempo Al cimitero Ecco pochi posti Come il cimitero Parlano No Lì si vedeva un po' tutto Famiglie Che all'interno Della stessa famiglia Persone con cognomi diversi I morti Della tragedia Dell'Arza Di cui racconto nel libro I morti Delle foibe I morti Dell'arrivo Dei tedeschi Subito dopo Quindi è stato Particolarmente D'impatto Però Non potevo parlare Solo col cimitero Ecco Nel senso Ricostruire Poi anche Proprio una bibliografia È stato difficile Perché C'è molto C'è la sensazione Di aver sentito Parlare tantissimo Dell'argomento Ma in realtà Se ne parla sempre Per slogan La bibliografia C'è Ma Ad esempio Non ci sono tanti Libri Species Cioè io andavo proprio A cercare Cos'è successo In quel paese lì Che c'era Che non c'era È stata dura Quindi Senza dubbio È stato È stato Un lavoro Lungo Di cui in sostanza Sono contenta Perché dovevo Proprio riempire Un buco Totale Che mi era stato Consegnato 20 anni fa Non c'era nulla E per trovare Qualunque Scritto Qualche libreria Di Trieste Ma nel resto d'Italia Non si trovava Assolutamente nulla Anche per documentarmi Per i documentari Della televisione Non c'era Assolutamente nulla Nei documentari Fra l'altro Ripeto Li abbiamo visti Qui altre volte E uno dei meriti Di farci vedere Alcune delle persone Dalle storici Come Elio Api Che sono tra quelli Che hanno aperto la via Insomma Ho detto che appunto Gli storici Di l'istituto Di resistenza di Trieste Ha ricordato Insomma Il primo libro Sull'esodo Del 1980 E hanno poi Continuato Isolati Dalla storia Fia nazionale Oggi Apro la parentesi Quadra Ma mi tocca L'istituto Di resistenza di Trieste Cos'altro Il nemico Dalla giunta Di centrodestra Che considera Che parlare Anche solo Parlare del fascismo Infanga Il giorno del ricordo Chiusa La parentesi Quadra E poi Guido Miglia Direttore Della rena di Pola Che Che è una persona Si capisce anche Da quello che ha scritto Ma Di una straordinaria Umanità Di una straordinaria Umanità Fra l'altro Di Guido Miglia C'è una delle sue Pagine Insomma Ricorda Di quando andò Maestro La prima volta Iniste In un paese Dell'interno Molto croato Insomma I bambini Parlavano Naturalmente La loro lingua Lui li sgrida Perché sa che Deve parlare italiano Che così E solo D'adulto Dice Dopo le tragedie Alla mia terra Capì Quanto sia Orribile Impedire A un bambino Di parlare Della lingua Dei genitori E Quindi alcune Di queste persone Questi documentari Ce li hanno fatte Conoscere Credo Che ci sia Spazio Modo C'è sicuramente Spazio E penso Anche modo Di fare delle domande Osservazioni Piccolissima cosa Che Silvia dice A un certo punto Citando In un bel pezzo Che lei ha scritto oggi Per il mulino Parlando dei libri Sull'istria Cita Ovviamente Tomizza E cita Questo discorso Che secondo me Fa parte Della retorica Sulla nostra storia Della ricchezza Della frontiera Ecco Io invece Sono dalla parte Della frase Scritta da Claudio Magris In microcosmi Se vedi un confine Fai un passo più in là Io sono di quell'idea Ecco Credo che appunto Ci possa essere qualcuno Che vuole Sì Scuri forse Di nuovo Prima una domanda Tecnica I documentari Sono visibili Ce l'ha la RAI Le stecche RAI Ce l'ha Credo che una copia Ci sia Allora Credo che Una copia Ci sia All'estate Sì Mi confermano Che una copia C'è l'istituto Della memoria Dove c'è anche Della resistenza Sì Qui alla casa Della memoria Dove c'è anche Un documentario Che consiglio Che è stato mostrato Dai ragazzi Magna Istria Consiglio perché Lo consiglio Questo Magna Istria Perché anche lì È la storia Il filo conduttore È una ragazza Giovane Che ha Insomma Il filo Narrativo È che ha perso Il libro Ha perso la nonna Il libro di ricette istriane Quindi deve andare E per non farsi ammazzare Della nonna Deve andare A ritrovare Queste ricette In realtà Su questa cosa Fa un viaggio In Istria In cui si parla Di ricette Ma dentro Questo filo C'è la storia C'è anche La storia tragica Quindi anche questo Magna Istria È qui All'altra cosa Che volevo chiedere Riguardo alla documentazione Se esiste Una documentazione Ufficiale Lo chiedo Perché Ho rivisto Quelle puntate Di Mieli Sia sull'Esodo Che su Porzus E parla A un certo punto Del fatto Che si sono aperti Degli archivi Jugoslavi Non so Che cosa siano Da cui è stata Tira Perché ovviamente Esisterà una documentazione Ufficiale Di quello che esistò lì Se gli storici Hanno modo Di accedere Queste cose qui Sì Oggi c'è stata Una bella Trasmissione Di Mieli Sottolineo Bella Perché altre Mi sono piaciute Un po' meno Diciamo così Prima di andare a parlare Solo un'indicazione Poi Per quel che riguarda Gli archivi C'è stata Anche una C'è stato Un lavoro Per dire Come certe volte Si torna anche indietro Negli anni 90 Allora era ministro Della difesa Andreatta E fece Istituì In sua favoria Assieme al ministro Della cultura sloveno Una commissione Italo-slovena Di storici Che affrontò Questo problema Gli atti E' uscita Una pubblicazione Che devo dire Con un senso Qualche di vergogna Insomma la Jugoslavia La Slovenia Ha pubblicato Ufficialmente L'Italia Ufficialmente no Però case editrici L'hanno pubblicata E lì c'è un po' Anche il punto Di riflessione Su questi Su questi aspetti E di questa commissione Faceva parte inizialmente Anche Tomizza No Sì Pupo certamente Ma anche Fulvio Tomizza Il libro La miglior vita E insomma Un libro di storia Di una storia Che inizia dall'Ottocento Tra l'altro vista Con gli occhi Di un piccolo paese Dell'interno Insomma Croato Molti croati Italiani E con lo sguardo Di un figlio Di Sacrestano Sacrestano Che sa capire Tomizza Che l'ha vissuta Direttamente Sa capire I dolori Anche Degli altri Anche le sofferenze Al libro Di un'umanità Straordinaria Grazie Prima di tutto Sono molto interessato A queste tematiche Essendo nato a Gorizia E da bambino Molti dei miei compagni Di scuola Erano degli esulistriani Che non stavano solo A Trieste Ma anche a Gorizia Quindi mi ricordo Da bambino Questi cognomi impostrani Che finirono col C C Cosa Sì esatto Perché pure quello È sintoma Di una mescolanza E c'è C-H Il C-H Sì Oggi Nella Rai 3 C'era uno storico Che Quello sarà stato Solo con la C Perché ora È cambiata la grafia Tenete conto Scurabbi e scuri Che questi Poi Questi cognomi Sono stati Prima Italizzati Poi Lovenizzati Cioè I Craenz Ci sono Nella zona Tornovecento La metà col C E metà col K Quindi Adesso Capito Sì Quindi diciamo Da un punto di vista umano Per cui Personalmente Sono molto interessato Ho letto Ho letto con molto piacere Il libro Libro Bora E leggerò Sicuramente Quello Di Silvia Diciamo Una curiosità Anche io Una richiesta Di documentazione Allora Il fenomeno Il fenomeno partigiano Non è stato Solo da parte Degli Jugoslavi C'erano dei partigiani Italiani Che hanno combattuto In Istria E non si sono Allineati Alle truppe titine Molti sì Perché il partito Comunista italiano Aveva una posizione Estremamente ambigua Se non proprio Di appoggio totale Alle mire Annessionistiche Io sono comunista Quindi dico Ex Diciamo Ormai Non va più de modo Comunque sì A parte questo Quindi ecco Se c'era Della documentazione Perché sono andato A vedere All'Istituto Della resistenza Della Venezia Giulia Ma ho trovato Poca roba Eppure è difficile Trovare qualche cosa Ma le formazioni Partigiane Italiane Che hanno combattuto Il nazifascismo Ma non si sono Fatte incorporare Dalle truppe Quelli sì La usoppo Però pure Nella zona Di Capodistri Eccetera Non so se era Possibile reperire Io conosco Delle storie Della federazione Di Trieste Del partito Comunista Dell'epoca Dove i dirigenti Del posto Frausin Gigante Che non erano Allineati Con la tesi Annessionistica Vecoslava Vennero poi Denunciati In qualche modo E poi Trucidati Uccisi Dai nazisti Dietro soffiata Le partigiane Israele Ma queste sono Eccolo sapere Se c'era qualche Cosa Di più Come documentazione Grazie No Una Sì Rispondo Subito Vuoi Vuoi parlare Subito No Una cosa Piccola Sì No Di nuovo Il rimando All'istituto Di storia Quello Dove Dove Andato Lì Hanno L'insieme L'insieme Della Conoscenza Il CLN Di Trieste Gli esponenti Eccidenti Sono stati uccisi Perché non accettavano L'annessione Qui Io ho una differenza Rispetto a Anna Maria Veniamo uccisi Gli italiani Che non accettavano L'annessione Alla Jugoslava Non gli italiani In quanto tale Ma gli italiani Che non accettavano L'annessione E naturalmente Il potere popolare La stessa logica Utilizzata Nei confronti Di Slovenia e Croati Tra l'altro Nei confronti Dei collaborazionisti La logica Della resistenza Alla Jugoslava Era l'annentamento Cioè nel giro Di pochi giorni All'indomani Nel maggio del 45 Vengono fucilati 50.000 Ustascia E 10.000 sloveni Un botto Diciamo Per dire così E io credo Che La cosa Che io rimprovero Di più all'ampio Dico con forza Insomma In questa sede È Non aver marcato La differenza Radicale Fra il modo Di intendere L'unità antifascista Della resistenza italiana E quello di intendere Il modo di intendere L'unità antifascista Della resistenza Jugoslava Perché quel modo Il modo di dito Predeva L'allenamento L'emarginazione Progressiva O l'allenamento Dei nemici Del popolo E aveva come sbocco Esplicito Quello che poi è successo Ed Italia Anche qui All'opposto Ma anche qui Ha avuto come sbocco La costituzione Il pluralismo L'unità antifascista Era questo Tant'è vero Che appunto C'è un luogo Dove In Italia È applicata Da partigiani Italiani La logica Della resistenza Jugoslava Ed è Porzus Che è una macchia Della resistenza Italiana Ecco io trovo Inaccettabile Che Lampi Non rivendichi Con forza La differenza Della resistenza Italiana Rispetto Alla resistenza E che è su Porzus Io sono di Udine Quindi Figuriamoci Quante ne ho viste O sentite Ma insomma Ci siamo voluti Decenni e decenni Perché Padoan Dicesse Ed è stato il primo A lungo isolato Scusateci Ecco Quello che non capisco Ecco come Questa differenza Radicale Tra la resistenza Italiana E la resistenza Jugoslava Proprio sul nodo Centrale Dell'unità antifascista Non si è rivendicata Con forza Dall'Ampi Ci sono altre domande Adesso sono più di una Haiti prima Si E poi Lei Si ho capito bene Te li porto io No no I guai Qui se non resistano Dopo non mi sgridano No no Resta Resta Haiti Io sono istriana Mio padre Di isola Di istria E mio padre È stato Partigiano Credevo Di sentire Comunque Mio padre È stato Partigiano Nel CLN Antifascista Ha fatto Anche un po' Di carcere Fascista E poi Ha continuato Proprio l'esempio vivente Di quello che diceva lei Ha continuato La resistenza Rispetto all'occupazione Titina E ha fatto Otto anni Di carcere È stato Messo Insomma Ha fatto I carceri E mi raccontava Che nel comitato Nel CLN Quando c'era Ancora Là C'erano I partigiani Slavi E comunisti E c'era Frausin Che ha citato Guido E c'erano Litigate Già Feroci Tra Gli uni I partigiani Italiani E quelli I comunisti Italiani Quegli slavi Perché Già allora Parlavano Di arrivare Fino a Trieste O a Gorizia C'era Una rivendicazione Nazionalistica Molto forte In quella Componente Sì Volevo dire Mio papà Era Departito D'azione Per cui Quella Componente Che Diciamo Ha pagato Abbastanza E' anche Stata Molto Come dire Ricordata Ecco Con Quello Che ha Fatto Insomma Mi sto Confondendo Adesso Perché Sto Temo Un'altra Ultima Indicazione Di lettura Disfuggita Il volume Storia Di un Esodo Dove Tra l'altro Noi La nostra Famiglia Ha dato Tutte Le Carte Le Documentazioni Che Avevamo E Dove Hanno Parlato Per la Prima Volta In Modo Equilibrato A mio Viso Di Tutta Questa Vicenda Però E' Stato Completamente Rifiutato Trieste Questo Libro E Devo Dire Anche Le Te L'indicazione A questo proposito, proprio una settimana fa, non so se qualcuno dei presenti, c'è stata la Biblioteca del Senato, tra l'altro c'era la Virginiella, Marta Virginiella, c'erano altri esponenti, saranno pubblicati gli atti. Non mi pare però che quel tema sia emerso, sinceramente, se ho ascoltato bene il convegno. C'è stato per il convegno e vedremo gli atti. L'altra cosa che volevo dire è che la trasmissione di oggi su Rai 3, se qualcuno è sfuggita, andate su Rai Play e la vedete, è stata molto interessante, l'ho trovata anche io molto interessante e molto più equilibrata di altre, devo dire, perché ci sono trasmissioni veramente sbilanciate. È cominciata alle 12.30, uno stacca l'una, poi un'altra ora, quindi è abbastanza lunga se volete. Va bene, non era solo Mieli che parlava, c'erano altri naturalmente, l'ho trovata rispetto ad altri, perché il problema, e qui si parla dei libri in cui c'è, oltre a quello storico, l'elemento letterario, però siamo costretti a parlare, oggi è 10 febbraio, e quindi della cornice più generale, spesso si è parlato poco, ma chi ne ha parlato era la destra. Questa è la realtà, la destra fascista. Io ho fatto l'anno scorso al quartiere Giuliano Dalma, è appunto, questo se vogliamo fare è la storia della non storia, di come si è parlato, vi dico una piccola cosa, io l'anno scorso ho fatto la corsa del ricordo al quartiere, lì fanno 10 chilomi, c'è stata pure ieri tra parentesi, beh, alla fine c'erano i fascisti che facevano il saluto romano, quindi io ho fatto la corsa per partecipare, questo disturba effettivamente, c'è questa appropriazione di fatto, per gli errori della sinistra se vogliamo. Ora, i temi sono tanti, vorrei dire, Crainza ha citato, no, tu l'hai citato, scusami, il libro Il dolore e l'esilio, che essendo piccolino me lo sono portato, ma perché l'ho riuscito a questo punto? Me lo sono portato appresso per leggerlo in treno, per cose interessanti, perché l'ho letto, è del 2005, quindi qualche anno è passato, però è importante perché è uno dei pochi che inquadra nel capitolo finale, per esempio, che peraltro è ricco di citazioni anche letterarie che non guastano mai, oltre a quelle storiche, che queste diaspori in Europa sono state colossali, quanti sanno, lui lo dice, quanti milioni di tedeschi sono passati dall'Oriente all'Occidente, dalla Polizia Orientale, da Danzig in poi, 15 milioni, e quanti altri tedeschi, cioè è stato un colossale spostamento di popolazioni, per cui il piano numerico c'è stato in Europa, guerra dopo guerra, cioè dobbiamo leggere vicende istriane, lo dice Crainz, non io, all'interno di questi spostamenti enormi di popolazioni, i tedeschi hanno elaborato nei loro scritti molte cose, noi italiani abbiamo fatto un po' meno, mi sembra, sul piano storico, e meno male che arrivano libri come questi, libri di Silvia, che ho letto anch'io più di una volta, e nelle note però cita anche testi, è andata in archivio, cioè lei si è trasformata, sia pure in modo, lo confesso, un po' da dilettante, ma da ricercatrice, è andata in archivio di Stato, in altri archivi, a cercare le cose, è andata nei cimiteri, si fa storia anche così, naturalmente, però è un libro che segue una traiettoria sua personale, dove si coglie il timbro dell'autenticità, e anche se alla fine trova poco, però l'idea di averla fatta questa ricerca, che è andata in Istia più di una volta, secondo me è una cosa molto importante, sono molti libri in cui la ricerca non approda nulla, e tuttavia è stata importante averla fatta, ed è importante che si scoprano altre cose che non cercavi, in qualche modo, quindi libri interessantissimi sotto vari punti di vista, non ultimo quello letterario, come avete notato naturalmente, anche perché è costruito a chiave in qualche modo, per arrivare alla fine devi fare vari percorsi, non ti rivieni nel tempo, quindi libri molto interessati, e ti stimola di riprendere vecchi libri, ho ripreso una letteratura in materia, compreso quello che già conoscevo, perché spinge ad leggere, come i grandi libri fanno, a leggere altri libri, un libro richiama altri, ogni libro vero richiama altri libri, ci sono parenteni interni tra di loro. Ultima cosa che voglio dire, scusate, il Presidente della Repubblica, che rispettiamo tutti Mattarella, se ho letto bene, scusatevi, non voglio far polemiche, non in questa sede, parla del negazionismo, ma a me pare che usare questo termine negazionismo per quelli che discutono in modo critico queste cose, non mi sembra che nella Cersa, nel Cernicoio, non so, al limite riducano, non è negazionismo, scusate, adesso non è caso, stasera non lo voglio fare, io mi sono, no, 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 per carità, chiudo subito, allora mi scuso di aver tirato fuori, vabbè, sarà un'altra volta se capita, comunque io apprezzo entrambi i libri, vi ringrazio, bellissima unità, di grazie. Scusatemi, devo farmi sottotituire per un brevissimo tempo, però no, su questa cosa, vede, la Cersa e la Cernicoio usano una tecnica tipicamente negazionista, tipicamente, cioè utilizzando, però visto che, utilizzando l'errore di un documento, Alessandra Cersi, no, di Mugia, no, ma non è questo, non è questo, e la tecnica, il ridurre, infatti, devo dire giustamente, quest'anno, la Tarella ha ridotto molto, ha parlato di sacche militanti, l'anno scorso ha usato di negazionismo, l'anno scorso ha usato una cosa che poteva sembrare più larga, diciamo, sono sacche minime, eccetera, e badate che la tecnica è la stessa del negazionismo, cioè si contesta la correttezza di un documento sulle foibe, nel senso il numero non poteva essere quello, nella foibe non potevano essere tanti, eccetera, per contestare l'insieme, e questa è la cosa tipica del negazionismo. Fra l'altro, devo dire che la Cersa ci ha dato invece dei libri bellissimi sui campi di concentramento fascisti, ed è una cosa incomprensibile, come poi, quando si passi dall'altra parte, quei criteri analitici, critici, utilizzati splendidamente nell'analizzare i campi di concentramento voluto dai fascisti, sia totalmente smarrita quando si considera dall'altra parte. Oggi siamo andati oltre, nel senso che il sindaco di Piazza di Trieste ha parlato di olocausto, la presidente del senato Casellati, in senato, ha parlato di cenocidio, e nel programma del comune di Trieste ci sono delle nefandezze che non dovevano esserci. scusate che chiederei un attimo, ci sono altri interventi, però... C'è un'emergenza. Allora, qualcun altro che deve intervenire? Qui? Ecco. Vorrei chiedere a Anna Maria Mori se si è fatta nessuna idea la ragione per cui ce l'hanno più con gli italiani che non con i tedeschi. Non riesco a capire bene qual è il meccanismo che muove le popolazioni e avercela di più con gli italiani che non con i tedeschi. È una cosa che mi si interroga da un po' di tempo. È difficile rispondere perché è un interrogativo che accompagna anche me da tutta la vita, ma credo che i tedeschi siano delle presenze occasionali anche in quanto nazisti. Gli italiani erano lì, sono sempre stati lì e sono stati molto fastidiosi per una gran parte della popolazione dell'interno della Jugoslavia perché rappresentavano in qualche modo la borghesia o la piccola borghesia e c'è stato uno scontro violento lì tra il contado, il popolo dei boschi come viene definito c'è anche un capitolo di Silvia che parla del popolo dei boschi e le città che erano prevalentemente abitate da una piccola borghesia di matrice italiana e c'è stato uno scontro che non direi lotta di classe, forse oggi si usa un altro termine che è quello dell'invidia sociale. Non va più di moda la lotta di classe. Qualcun altro? Ci può dire la sua esperienza personale? Non so se è troppo intima ma sarebbe molto interessante e commovente per noi. Il suo esodo. Sì. C'è nel libro e io ricordo questi... perché Pola è stata occupata per 45 giorni dalle truppe di Tito 45 giorni in cui noi abbiamo vissuto tutte le notti il cambio di guardia delle persone che stavano sveglie per avvertire se arrivavano quelli famosi che portavano via le persone e dopo i 45 giorni sono arrivati gli alleati che hanno controllato la possibilità che l'esodo si svolgesse regolarmente a Pola si poteva optare per partire su 30.000 abitanti ne sono partiti 28.000 quindi come scrive Nelida una città intera è partita sul mare io sono partita sulla famosa nave toscana questa nave nera me la ricordo ancora e mi ricordo questo viaggio di notte dentro a questa nave scura senza luci con tanta gente che beveva per ubriacarsi e mi ricordo lo scrivo anche cioè si ubriacavano e poi eravamo stipati in questi letti a castello dentro la nave e quelli di sopra che si erano ubriacati facevano la pipì su quelli di sotto e poi io non mi ricordo bene dove sono sbarcata e alla fine di questo viaggio sono finita a Castagnole in un posto vicino a Treviso dove i miei avevano una piccola campagna che poi è stata venduta per rifarsi una vita e in questa campagna c'erano i contadini che erano i mezzadri che vissero me e la mia nonna che siamo arrivati lì di nuovo come degli invasori quindi eravamo rifiutati di là rifiutati di qua e quindi gli invasori ci avevano messo a dormire nella stalla e noi mangiavamo pranzo e cena una fetta di polenta bianca e una tazza di latte e mia nonna che non si rassegnava girava per le campagne vendendosi tutto l'oro che aveva per cercare di avere una scatola di biscotti una bottiglia di vino ecco dopodiché da lì sono andata a Firenze e a Firenze sono andata in collegio eccetera eccetera prego sì c'è anche una curiosità per me perché sia dal punto di vista della più giovane attraverso le interviste le chiacchierate che ha fatto ma anche dal suo punto di vista più direttamente perché poco si parla invece di ciò che è accaduto prima e cioè dopo la rovinosa caduta o rovinosa o meno caduta del fascismo ma prima a Trieste e a Pola credo insomma siano accadute delle cose molto terribili di questo però non si parla molto non so se nelle vostre esperienze i libri non li ho ancora letti ma mi riprometto di letti esatto sì se ne è parlato a Roma e la perenne giustificazione come dice giustamente Mattarella oggi non può essere la perenne giustificazione di quello che è successo dopo quello che è successo prima cioè non può essere che d'accordo abbiamo detto dichiarato in tutte le maniere in tutte le località il libro di Silvia contiene capitoli e capitoli sui misfatti del fascismo questo non giustifica quello che è successo dopo non giustifica non giustifica che esistono però due memorie che non possono essere la stessa memoria e due storie che vanno considerate tutte no sono state considerate tutte assolutamente ma ci sono ma ci sono abbondantemente e nei suoi misfatti il famoso Roat c'è di tutto se ne parla l'armadio della vergogna ma come no se ne è parlato a Iosa non giustifica e beh le nostre noi ci fermiamo a quello cioè se ogni volta uno deve ricominciare da come cominciò Maometto e beh allora non ha senso questo discorso noi raccontiamo quello che è successo dal 45 anzi dal 43 in poi 43 sono cominciate le foibe ecco questo è era questa no no dicevo ah no volevo dire il dato concreto di oggi in televisione hanno detto che quando parlava Gasparri i membri del PD sono usciti quindi diciamo che la storia ancora non trova una conciliazione allora io intanto volevo ringraziare chiunque abbia organizzato diciamo questo incontro perché io volevo ringraziare sinceramente chi ha organizzato questo incontro perché anche dagli ultimi interventi si capisce che non abbiamo forse imparato niente di quello che sia gli storici sia anche chi ha vissuto e chi è rimasto io come penso una cosa quello che è importante e perché qui stiamo in una casa in un'associazione insomma in un luogo importantissimo però vedo che sembra quasi di stare un po' in un appendice del Parlamento per certi aspetti con un aspetto un po' negativo lo dico me la prendo io la responsabilità me la prendo io la responsabilità di dire quello che ho detto poco fa io credo che l'unica soluzione sia andare avanti con la letteratura andare avanti con la storia quindi qui bene o male il professor Kreinze delle volte bisogna fare i complimenti a chi già da tanti anni ci ha permesso di capire quello che è successo e poi un invito e forse bisogna soprattutto con i giovani utilizzare sia la letteratura che la storia in modo tale che forse anche alcune polemiche poi alla fine cadano più facilmente altrimenti c'è il pericolo che insomma un po' di passi avanti non se ne fanno un po' può capire quello che ho detto comunque e vabbè pazienza grazie a chi ha organizzato l'innovazione sì volevo dire una cosa io e nel libro lo racconto sono dalla parte della mia famiglia materna ho avuto un bisnonno comandante partigiano e mia nonna era una staffetta partigiana e dall'altra parte invece poi beiste eccetera quindi è come se dentro di me sussumessi tutti questi due lati di di quello che porta sostanzialmente a litigare sempre su questa questione tanto che molto spesso quando vado alle presentazioni mi dicono ma non hai scritto nel libro vero ti prego che non lo so che l'altro giorno non parti già è stato è stato un partigiano no no l'ho scritto figurati eccetera e perché perché se noi togliamo tutte le strumentalizzazioni politiche cioè se noi togliamo il voler legare necessariamente questo discorso a un altro se noi togliamo cioè se noi vediamo la storia come appunto la storia del confinest io penso che forse si smetterebbe anche di litigare cioè nessuno non esiste nessuno che se non insomma qualche politico però ne vogliamo veramente parlare cioè dobbiamo veramente parlare di loro che non racconta ad esempio che ci sono stati che c'è stata l'italianizzazione nel periodo fascista non c'è nessuno che non racconta l'invasione della dell'ex Jugoslavia e leghiamo insomma diciamo così i discorsi come un che cosa ha fatto il nazionalismo all'istria che era la zona multietnica una zona multietnica quando ancora il concetto di multietnicità era lontanissimo da venire quindi io penso che se riuscissimo a fare tutti un respiro profondo prima di parlarne perché so che non è facile penso che molto probabilmente si riuscirebbero a trovare molti più punti in comune di quelli che sono veramente i punti di frattura un punto scusate ho dovuto ritornare a sentarmi ma mi sembra che c'è un punto che sempre non riusciamo a superare allora parlare del fascismo è obbligatorio ma parlare del fascismo per giustificare quello che è avvenuto dopo è un crimine un crimine nei confronti della storia cioè no scusa non ho sentito non mi interrompe non ho sentito quindi era solo una cosa generale e l'utilizzo del fascismo per giustificare che è avvenuto dopo scusami Fiorella ma è molto frequente non dico non ho sentito il tuo intervento quindi non ti posso imputare e conoscendoti non te lo imputerei se me lo riferiscono però questo credo il punto è questo è intollerabile parlare di questa storia senza parlare di cosa ha significato il fascismo che l'identificazione italiani Italia e fascismo non la fa Tito la fa Mussolini l'Italia persecutrice è un frutto del fascismo è un crimine di Mussolini ma utilizzare questo ignorando che c'era una strategia esplicita mirata che puntava ad annettere l'intera Venezia Giulia come diciamo in qualche modo è legittimo perché c'era appunto dietro c'era una cosa teorica quella città dalla Maria la campagna comanda sulla città dato che retroterra è croato questa zona è nostra che se pensiamo a città come Trieste Curizia voi capite che non è proprio una cosa che condividiamo quindi mi sembra che il punto che però credo che dovremmo essere in grado almeno in questa sede di superare è il fatto che ovviamente ci sono i crimini del fascismo che hanno creato una situazione di odio pesante utilizzata all'interno utilizzata poi dalla politica di Tito dentro un obiettivo strategico deciso perché certamente ci sono state anche cose rancore individuali ci sono anche nell'Emilia del 45 ma quello che mancava nell'Emilia del 45 c'era in Jugoslavia anche questo il partito comunista italiano avrebbe dovuto rivendicare che in Emilia non c'era c'era insomma in qualche zona qualcuno che pensava di fare come in Russia insomma quindi quelle uccisioni avevano un po' quest'idea in alcuni ma non era la linea del partito in Jugoslavia è la linea del partito e questo dà la differenza radicale fra uccisioni che avvengono anche in Italia anche di antifascisti in qualche modo in qualche caso ma soprattutto di fascisti come del resto anche in Jugoslavia ecco questo credo che dovremmo però essere in grado di superare il 2020 non so se ci sono altri interventi se non ci fossero darei la parola a Silvia e a Anna Maria in quest'ordine diciamo invertiamo lasciamo ad Anna Maria l'ultima parola per le osservazioni di conclusione io posso direi solo grazie per chi è venuto essere qui grazie Anna Maria a Guido a chi ha organizzato l'incontro alla Casa della Memoria della Storia all'Istituto Storico della Resistenza e sono temi di cui non è facile parlare perché in un certo senso cercano sempre di tirarti da una parte o dall'altra e sono temi di cui è giusto parlare inquadrandoli sottraendoli penso proprio alle retoriche e in un certo senso aprendo anche un po' una se volete uno spazio di conoscenza su dei luoghi che assolutamente su cui le persone non sanno nulla insomma io nel libro ho raccontato anche di cos'era l'Arza di cos'era il disastro minerale di Arzi eccetera e mi sono resa conto che le persone non ne sanno assolutamente nulla quindi siccome conoscere cose nuove è sempre è sempre bello ecco qui c'è una grande sacca di 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 cose da conoscere Anna Maria Anch'io ho un grande ringraziamento a chi ha organizzato a Guido Anna Bella Gioia a tutti voi che siete pazientemente stati qui ad ascoltarci nelle cose giuste o sbagliate che abbiamo potuto dire e che dirvi tu dicevi un'ultimissima notazione non c'è un segnale sulla foiba di Vines a Pola ci sono voluti anni per avere una piccolissima lapide che ricorda la strage di Vergarolla su cui cioè a Pola c'è stato un attentato che rammenta per esempio quello di Piazza Fontana con su una spiaggia fatta esplodere delle bombe inesplose in piena estate 130 morti 130 morti prevalentemente bambini che facevano il bagno sulla spiaggia e è stato un attentato di cui ancora non si conoscono i colpevoli e che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso se avevamo ancora un'idea che forse si poteva restare abbiamo capito che non potevamo restare noi siamo andati via perché non potevamo restare grazie di averci ascoltato grazie a tutti 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 Grazie a tutti.